Si ritorna da dove c'eravamo lasciati, Aeroport Hotel Catania, con tante novità, il capodanno più esclusivo della Sicilia. Affrettati per bloccare subito il tuo capodanno, in diretta, regionale, su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. DJ, Gio Bertè, Voice, Vito Lagrassa, le emozioni te le diamo solo noi. Aeroport Hotel Catania, capodanno 2022, perché la vita si vive solo ballando. Per info, prenotazioni, 348 30 17 902, 348 45 01 610.